Se avete bisogno di crediti passate nel link in descrizione e con il codice DEXTER riceverete il 5% di sconto D'altra volta Violetta ha fatto bombe e passi con i calciatori ma oggi mi vendico e facciamo con le mogli fidanzali dei calciatori E ragazzi io ve lo dico se arriviamo a 35.000 mi piace prossimo scherzo cattivo a Violetta C'entra con FIFA La volta qua mi vendico Come funziona è molto semplice andremo a fare un draft e il modulo è uguale sceglielo te quale ti piace Io non so cosa cambi Non cambia niente quindi scegliamo questo modulo Ora ci darà una lista di 5 giocatori Eccoli qua Io quale devo scegliere? No non devi scegliere te Ora ci andremo a cercare le mogli che io mi metterò qua sopra E decideremo qual è la moglie che mi bombo Cioè quella che mi piace di più Questo video lo vedo molto pericoloso Nei ma già so che c'è la ragazza gnocca Gli altri Hai già scelto no? No no gli altri lo scopriremo Tra 3 e 2 e 1 Allora La moglie di Lisandro Lopez e Mora carina Però Come però? Dici te già conosci Ma non è il tuo tipo Se conosci i miei gusti Eh beh certo che li conosco La moglie di William non mi piace Neymar Mi ricordo già nel video scorso avevo scelto la fidanzata di Neymar Non so se l'ha cambiata ma comunque è sempre una grande pezzo di gnocca Possiamo dirlo Poi c'è James Rodriguez che c'è la ragazza un po' volgare Ma magari non è volgare però Non ho detto niente Bionda, tettona Quindi poi scelgo E poi David Silva che è una moglie a questo buone normale Io scelgo Bombo Bombo dove è? Il mio cane? Neymar Anche stavolta No vabbè no 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 Non è vero Rodriguez Ah ecco mi sembrava strano Non avevo dubbi Rodriguez perché qui non si parla di chi è la più bella Ma si parla Di bombare Sì Bene Secondo attaccante Il bomber Questi non so manco se ce l'hanno ai fidanzati Ma chi sono? Vediamoli subito Tra 3, 2, 1 Allora Scocco o Palasio non hanno la ragazza Mannaggia Sono single Poi abbiamo Cutrone Selk e King Che sono molto indeciso Molto Chi? La seconda e la terza un po' si assomigliano La seconda e la terza un po' si assomigliano Per questo sceglierò Vera carne italiana Quindi la fidanzata di Cutrone Scusami Cutrone però C'è la ragazza più bella Più gnocca Che male c'è Anzi Cutrone Buono per lui Poi Terza Alla sinistra Oh abbiamo di nuovo William E vediamo gli altri se c'hanno la ragazza buona Perché William no Tra queste non mi piace nessuna No ma Forse una che c'ha due airbag Con la ricetta? No Winni-Chews non mi piace William non mi piace Scartata Prendo l'olandese Volante Olandese volante Eh sì c'è più il mio tipo insomma Quindi Kukenrol Che è olandese Io so parlo olandese Kukenrol Solo questo sai dire Kukenrol Squadretta Che squadretta di pippe veramente Primo centrocampista Bene Vedremo le ragazze mogli Tra 3, 2, 1 Ragazzi Qua un po' scarno Perché le ragazze Ce l'hanno solo in 3 Verratti Parte Paoligno Il problema è che non mi piace nessuna Raga devi sceglierne una però Non so chi scegliere Per il sorriso Forse quella di Verratti Anche quella di parte È un bel sorriso Però Verratti no No E quella di Paoligno Non mi piace Raga non mi piace nessuna Quindi Raga Voglio provare il cioccolato Oh perché te riti Voglio provare il cioccolato Quindi parte Oh dai Sono d'accordo Bel sorriso Ok Bel cioccolatino Oh vabbè Siamo già a 4 4 della rosa scelti Tutti un po' Pippo Andiamo avanti Vai Un altro centrocampista Vediamo cosa ci riserva FIFA No Zonzi Oddio Se scelgono Zonzi Sparate me in bocca Ma che che è È una pippa Zonzi Ah Sei brutta la ragazza Ma che ne so Speriamo che non scelgo Speriamo che sia brutta Così almeno non lo scelgo Non lo voglio vedere Zonzi Ok ce ne sta Una brutta Mascherano E una moglie brutta Due non fidanzati E un cioccolatino E una milf Io per fare quella cosa Quale cosa? Quella del mio cane E vi ho detto una cosa Scelgo la milf Contento du Mi piaceva anche un po' La moglie di Wainyama Eh mica male Dunque in Zonzi Fortunatamente non è una ragazza È manco quello della Lazio Quindi Non devo scegliere Né Zonzi Né uno della Lazio Bene male Quindi scelgo La milf Anche la moglie di Mascherano Un po' Una milf Ma proprio non si può vedere Mamma mia Se l'avete in gatto nero Se gratta le palle Ma ci stai a dire E tu è brutta Sembra una strega La moglie di Mascherano Dai Di pittura Guarda che sei proprio cattivo Vabbè Cerco la milf Di Anderson Grazie Arrivederci Terzo Centrocampista Mamma mia Mamma mia Che pipponi Ma penso Se toccava a me Scegli tra questi Eh Te hai già scelto Eh Tavo Quante vuoi fa A meno male Che non tocca a me Guarda che brutti Magari C'hanno la moglie Gnocca Vabbè Non lo so Ragazzi Nessuno Ha la ragazza Ma io non avevo dubbi Però Eh Non avevo detto Quindi Violetta Sceglierà Che è il più bello Prego No no Scegli tu Sai tu che devi scegliere Io Io Non c'è sta ragazza Che devo fare Eh Scegliere questi Io scelgo Io che ne ce l'avrei Poi Chi mi Chi mi No Chi mi bomberei Io con una parrucca No Questo C'è troppa barba Quindi Dai Ma il Nand Sei il più carino Eh Ma la barba Ma scusami Eh Gli la fai togliere Quindi Che scelto Questo Che quello Con una busta in testa Truccato Magari E' meglio Va bene Contento te Da notare come nessuno Faccia intesa Da notare come sia uno Più brutto dell'altro Però che hanno la ragazza buona Va bene Dai Terzino sinistro Senza induggiare Sempre peggio Mamma mia Ma che è sto draft Vediamo se questi C'hanno la ragazza Penso di sì Ragazzi Dopo una curata ricerca Neanche questi C'hanno la ragazza Quindi lo sapete Che facciamo Sceglieremo uno Da qua Dalle riserve Che magari Sono forti E c'hanno la ragazza Pubblica Le mettiamo Tra tre Due Uno Vabbè Allora Qui c'è Alexandra C'è la moglie Cicciona La moglie De Salah Manco se vede E io direi Zeko Zeko Per sempre Zeko tutta lì Anche se non è che Sia sto grande Blanché Però Se devo fare le cose Fatte bene Le facciamo Con la moglie Di Zeko Quindi Vediamo Zeko Ok E lo mettiamo Terzino sinistro Mi spiace Per te Che non ce n'è Una così bella Da prorompere Beh sì Prima Abbiamo visto Butrone Abbiamo visto Rodriguez Magari esce Piqué E mi esce Shakira No Non è uscito Piqué Due italiani Attenzione Vediamo E il francese Sicuramente Non ha la ragazza Perché di solito I francesi Sono single Oppure che Non se la Puzzano Non se lavano E quindi Non c'hanno il bidet E quindi Non c'hanno manca La ragazza Bene Oh Qui Senza ombra Di dubbio Andiamo sempre Su vera carne Italiana E quindi Mancini Non c'ha la ragazza Quindi Non posso sceglierlo E quindi Scegliamo Bonucci E c'ha la moglie Bona Che sembra Elisabetta Canalis Vai Bonucci Passione difensore Dai con Piqué Vai con Piqué Mamma mia Oh per fortuna Non stai facendo Grandi commenti Eh Vabbè Vediamo le moglie Di queste Tra 3 e 2 e 1 Io confido in Pepe Quindi 3 e 2 e 1 Allora qua ci stanno Delle belle bilfoni Tipo Pepe E Felipe Però io vado Sulla tin Sulla tin E quindi vado sul nuovo acquisto del Milan Teo Hernandez Attenzione mancano due giocatori Terzino destro Oh Klein può regalare sorprese Dici Sì Dico Perché Perché Joao Cancelo Joao Cancelo Vediamo Magari Prendiamo lui L'unico giocatore forte Eh appunto Vediamo Tra 3 e 2 e 1 Oh Klein non ci ha stupito Ma io andrei sul vero Tetesken Kimmich Oh Una bella tetescona Anche quella di Joao Cancelo È carina Però Preferisco quella di Kimmich E quindi Vai Ultimo Ultimo Portiere Se esce Buffon Esce Lare un amico E sappiamo già Chi scegliere Vediamo un po' Chi esce fuori Oh Nana È uscito Nana Ma è uscito anche Noi È vero tedesco Vediamo Se le tedesche Vincono ancora O vincono le italiane Quindi questo secondo me Sarà un duello Germania contro Italia Quindi le scopriamo Subito Infatti Duello è Italia Germania Infatti gli altri Non sono fidanzati E tra cui c'è un francese Appunto Ti pareva E non è fidanzato E quindi Chi ti piace? Non lo so Nessuna Diciamo quella Sono tutte due bionde Quella di Sirico E più Milf Ce l'hai con le Milf? Eh ce l'ho Mi piacciono le Milf Hai capito Quindi Milfona Italia Italia Ha vinto l'Italia Mamma mia Che draft Campioni proprio Una bella partita Guarda Proprio campioni Solo uno Mi fa intesa Bonucci con Sirico Bene ragazzi Questo è il draft Questi sono i calciatori Più fortunati Che hanno le mogli Più belle Più bombabili Beh a di loro Io Violetta Contentissima 30.000 mi piace Scherzo Cattivissimo A Violetta A 35 mi vendico No A te hai già fatto Bombi e passi Tu calciatore Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Cliccate sulla campanella Noi ci vediamo prestissimo Un nuovo video E vi mandiamo un abbraccione Un salutone E ci dici Ciao gente Ciao